Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'Altare, Ti adoriamo qui e in tutte le Chiese che sono del mondo e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, apriamo il cuore a Maria. O Maria, Mamma nostra cara, nei momenti difficili della nostra vita, come quello che stiamo attraversando ora, noi sentiamo la Tua vicinanza e percepiamo il battito del Tuo cuore che ci infonde coraggio e serenità. O Maria, dopo l'annuncio dell'Angelo, Tu andasti in fretta da Elisabetta per aiutarla in un momento tanto delicato della sua vita. Vieni anche nelle nostre case e riempile con la luce e il conforto della Tua materna bontà. O Maria, Mamma nostra cara, come accadde a Cana di Galilea, talvolta cadiamo nell'apprensione. Aiutaci con la Tua presenza sempre attenta e vigile e riportaci a sorridere con rinnovata fiducia. O Maria, Tu non ci abbandonerai mai. Grazie. Meritiamo i misteri gloriosi. Il primo mistero glorioso ci mette davanti l'evento più grande e più consolante di tutta la storia umana. Gesù risorge dai morti e dà inizio ad una nuova umanità, della quale noi facciamo già parte per il battesimo, ma aspettiamo il compimento nella risurrezione finale della carne. Viviamo quell'attesa. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Ave o Gesù. Il secondo mistero glorioso ci mette davanti la scena dell'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è un abbandono, Gesù è sempre presente, ma è nascosto, perché vuole che noi siamo la visibilità della Sua bontà, della Sua mitezza, della Sua pazienza, della Sua umiltà e della Sua misericordia. È una grande missione, Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua massericordia. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù, e lo Spirito Santo discende su Maria e sugli apostoli in preghiera nel Cenacolo, e riempie di coraggio, di entusiasmo il loro cuore, per annunciare la bella notizia. Che Dio ci salva in Gesù, e la missione continua attraverso di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, Pettatore, ad essere l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, Pettatore, ad essere l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. In Maria si compiono perfettamente le parole del suo magnifica, Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Quante volte vediamo compiersi queste parole, quante volte, Padre nostro. E se ne c'è, sia santificato il tuo nome, prega il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quinto mistero glorioso è il Paradiso, che è la meta della nostra vita, la speranza della nostra vita. E in Paradiso Maria è regina degli angeli e dei santi, e in Paradiso, e dal Paradiso, Maria ci segue, ci protegge, perché Maria è mamma per sempre, la nostra mamma celeste. Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, e non ci indurre in tentazione, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave di Dio, prega per noi, ricatori, adesso è l'ora della nostra morte, e amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, come sempre, dai secoli, dai secoli, amore. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto, contro la cattiveria e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di Lui, preghiamo supplichevoli, e tuo Principe, della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana, e tutti gli spiriti maligni, che si agirano nel mondo, a perdizione delle anime. preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. grazie oggi il nostro pane quotidiano, che rimette a noi i nostri diretti, come noi li rimettiamo ai nostri direttori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dalla madre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come è nel principio, come è sempre, nei secoli dei secoli, salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, e speranza nostra salve, a te ricordiamo, e noi essi figli di Eno, a te sospiriamo, cementi e piangenti, in questa valle di lacrime, or su dunque, Avvocato nostro, rivolge a noi, gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo prega per noi Madre della Chiesa prega per noi Madre della Divina Grazia prega per noi Madre Purissima prega per noi Madre Castissima prega per noi Madre sempre Vergine prega per noi Madre Immacolata prega per noi Madre Legna d'Amore prega per noi Madre Annio Agile prega per noi Madre del Buon Consiglio prega per noi Madre del Creatore prega per noi Madre del Salvatore prega per noi Madre Immacolata prega per noi Vergine prudentissima prega per noi Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Specchio della santità divina, prega per noi, Sede della sapienza, prega per noi, Paglia della vostra etizia, prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, Averracolo dell'eterna gloria, prega per noi, Vivi ora tutta consacrata a Dio, prega per noi, Rosa mistica, prega per noi, Torre di Davide, prega per noi, Torre d'Avorio, prega per noi, Casa d'Oro, prega per noi, Marca dell'alleanza, prega per noi, Porta del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, Salute degli infermi, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Consolatrice degli afflitti, prega per noi, Aiuto dei cristiani, prega per noi, Regina degli afflitti, 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 prega per noi, Regina dei veri cristiani, prega per noi, Regina degli afflitti, prega per noi, Regina degli afflitti, prega per noi, Regina concedita senza peccatori di noi, prega per noi, Regina assunta in cielo, prega per noi, Regina del Santo Rosario, Prega per noi, Regina degli afflitti, prega per noi, Regina degli afflitti, prega per noi, Regina degli afflitti, prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Prega per noi, Santa Madre di Dio Preghiamo, infondi la tua grazia, oh Signore, nei nostri cuori perché noi che all'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio seguendo la via della croce ogni giorno possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo, nostro Signore Invoco la benedizione del Signore per ciascuno di voi per coloro che ci seguono da casa o dagli ospedali o dalle residenze per anziani o da qualsiasi altro posto per l'intercessione di Maria Immacolata vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo portate a casa il frutto della preghiera che è la bontà Androvede Maria In cielo, Padria mia, Androvede Maria Mi adorvede Maria Mi adorvede Maria Androvede 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 Maria